Tommaso Ragno, Il Miracolo, la serie di Niccolò Ammaniti, tu sei un personaggio un po' cupo, forse più di un personaggio senza spoilerare troppo, giusto? Una cosa che le sembra positiva, negativa oppure che contenga invece un interesse narrativo sull'ambiguità del personaggio, come le sembra? Mi sembra che non è facile sdoppiarsi in due personaggi in uno, quantomeno in un personaggio con una doppia, chiamiamola così, personalità per semplificare il tutto. Ho risposto bene, sono promossa? No, mi aiuta molto se ne conversiamo perché se comincia a parlare... La cosa complicata è non spoilerare, ecco, quello è, per cui parlare... E non spoilerare, però appunto, a corollare di quello che ha detto, che mi piace molto, e proprio grazie alla scrittura fatta da Niccolò Ammaniti, nonché Francesca Marciano, Francesca Manieri, Stefano Bises, che hanno creato un'atmosfera e anche una possibilità di stimolare l'immaginazione degli attori per portarli a seguire la loro curiosità imponemente. Quello che con questo personaggio mi è stata data la possibilità di fare. Diciamo che si resta un po' male a guardarti all'inizio e poi a metà già della prima puntata si capisce appunto che non sei proprio tu, che Marcello non è una sola persona. No, infatti, è un Jekyll e Hyde, ma in realtà questo è vero anche per tutti quanti. Forse il Marcello è più evidente all'inizio, poi dopo, andando avanti nella serie che non posso raccontare, accadono diverse altre cose per cui questi capiamo che sono veri e propri personaggi e non caratteri fissati in una sola maniera, anche perché quello che incontrano nel corso della storia li modifica. E sì, siamo stati in zone molto, molto, molto lontane da quelle dove abitualmente stiamo e questo è il portato maggiore, insomma, di questa vicenda che abbiamo potuto girare. Si parte ovviamente come da titolo da un presunto miracolo, una madonnina di plastica che piange sangue, ma tantissimo sangue, a litri proprio. Allora, ci dobbiamo preoccupare del fatto che anche un miracolo, quindi qualcosa che riguarda la spiritualità, in qualche modo la religione, la fede, possa incidere su un ordine pubblico di una città, perché la paura più grande del premier e della polizia è quello. Cioè, non facciamolo sapere perché sennò qui scoppia un casino. Come lei sa, queste cose sono anche parte di un merchandising vastissimo. E poi vorrei magari puntare l'attenzione, sempre rimanendo nell'ambito della cosa, che chissà se una cosa è un miracolo o una botta di fortuna. Questo veramente ognuno lo deve decidere per sé. Però, così come è magari miracolosa la guarigione da una malattia terribile, altrettanto non viene ritenuto miracoloso il fatto che questo stato di una malattia sia anch'esso dono di Dio. Mi spiego, nel senso, si tende a pensare che il miracolo è aiuto divino, mentre quello che ci capita è il caso. In realtà la storia contiene, proprio anche a livello individuale, l'incontro di ognuno con delle dimensioni anche estremamente forti, che poi si vedranno e che sono dei veri e propri cambiamenti di vita, come lo sarebbero nella vita di chiunque. Non vado a dire che cosa, rimango pieno di ritegno come promesso. Però è l'incontro che individualmente ognuno di questi esseri che vagano ad avere. Poi sicuramente ognuno vive degli stati di possessione o comunque degli stati alterati della propria esistenza che non sono necessariamente legati alla presenza, sì, di una Madonna che piange sangue. Questo non è che magari, come si usa dire, una lente di ingrandimento. Però è fatale fare delle generalizzazioni perché sono cose estremamente personali e per questo anche molto difficili da dire. Quindi non può essere che dato uno sguardo, da un lato, banale. Proprio perché la cosa che accade ha un linguaggio completamente diverso da quello che noi abitualmente abbiamo per rapportarci. Quindi faccio l'esempio ancora più banale, insomma, ma come fai a spiegare l'amore? Mi spiego. Però accade. È un miracolo? Sì, si tende a dire quello. Ecco perché possono essere dette sciocchezze a non finire, il che è molto più probabile che invece dire cose sensate perché forse esulano dal senso comune, esulano dalla misura apparentemente normale, ammesso che è normale, voglio dire, qualche cosa di sì, di, come dire, vivere è qualcosa di non normale, insomma, non è, è qualcosa che poteva non accadere e invece accade. Quindi, ehm, amen, ecco. Prossime due cose, ti rivedremo da qualche altra parte molto presto. In questo momento ho cominciato, in questo periodo, a girare una serie per Netflix che si chiama Baby, diretta da Andrea De Sica. Quindi ci rivedremo. Si ci rivedremo. Non va a guarder. Si.